SNAPLACE Ciao a tutti, sono Silvia, co-founder di SNAPLACE. SNAPLACE è il marketplace degli spazi temporanei di lavoro che permette l'incontro tra domanda e offerta. Da un lato, la domanda di chi ha bisogno di uno spazio di lavoro per qualche ora, mezza giornata o addirittura un'intera giornata per potersi incontrare con dei colleghi o ricevere un cliente. Dall'altro, l'offerta di chi questi spazi li ha già e vuole metterli a disposizione di chi ne ha bisogno. Ma come funziona? Molto semplice. Basta collegarsi al sito www.snaplace.com creare il proprio profilo personale attraverso il quale poter offrire o prenotare uno spazio. Per la prenotazione occorrono pochi clic. Infatti, sarà sufficiente inserire la città interessata, la data e l'ora di arrivo, il numero delle ore necessarie e il numero di persone. In pochi secondi, apparirà un elenco degli spazi disponibili per quella determinata data e per quelle ore necessarie, che si differenziano tra loro per tipologia, prezzo e servizi offerti. Dopo aver scelto lo spazio che più si addice alle proprie esigenze, si concluderà la prenotazione effettuando il pagamento. Il nostro servizio è attivo per il momento su Cagliari, ma breve, sarà attivo anche su Milano e sulle altre città italiane. Mi raccomando, ricordatevi, se vi occorre uno spazio,